Gentili telespettatori, buona giornata all'appello di Salvini e l'Unione Europea sui migranti. Il capo della Lega dice che quest'anno sono inaccettabili gli arrivi per un paese moderno, civile ed evoluto. Anche perché in molte occasioni non si riesce a fornire l'adeguata assistenza a chi arriva in Italia con tanti italiani in difficoltà, non possiamo essere lasciati soli, avverte il vicepresidente del Consiglio, ministro delle infrastrutture che si rivolge all'Unione Europea nella speranza che le istanze del nostro paese vengono accolte e che si arrivi a una soluzione collegiale a livello dell'Unione Europea. Commenta l'emergenza immigrazione il segretario della Lega alla luce dei nuovi arrivi 3.000 in 24 ore. Dicendo che le frontiere italiane sono anche le frontiere europee. Vabbè. Vediamo se l'Europa finalmente dopo anni di chiacchiere passa dalle parole ai fatti. A tal proposito, accettato gli esempi di Ventimiglia, Lampedusa, Trieste, Brennero, non possiamo essere lasciati da soli ad accogliere decine o centinaia di migliaia di persone, occorre intervenire sull'altra sponda del Mediterraneo in Africa. Quindi che cosa sta dicendo Salvini? Occorre intervenire in Africa, si parla del blocco navale. Ma da quello che dice Salvini deve farlo l'Europa, bisogna intervenire in Africa, si parla di un blocco navale chiesto all'Europa che, detto fra di noi, milioni di ascoltatori, detto fra di noi, l'Europa, un blocco navale, non lo farà mai. M-A-I, tre lettere, mai scritto maiuscolo. Il problema è che la Meloni vuole arrivare alle elezioni europee del prossimo marzo per vincerle assieme al PPE e se fa un blocco navale italiano il PPE non si allea più con la Meloni conservatore in Europa e la Meloni non riesce a vincere le elezioni anche in Europa. Lei ha questo sogno, vuole vincere le elezioni in Europa e il blocco navale italiano subito che era in campagna elettorale e insomma non viene prima il vincere le elezioni in Europa che quello che sta succedendo. Poi ognuno di voi si farà la propria opinione se è giusto o sbagliato. Ecco, intanto vedete che Salvini parla sempre di Europa, non parla più di Italia, l'Italia deve fare, no, l'Europa deve fare. Giorgio Meloni al termine del Consiglio europeo ha dichiarato che sul tema dell'immigrazione l'Italia ha registrato un cambio di passo da parte dell'Unione europea. Cambio di passo, l'Europa cos'è che ha detto? Ha detto ne riparliamo a giugno, vero? E beh, insomma, è un passo lungo direi, no? È un bel passo lungo di tre mesi, è proprio un cambio di passo. Prima aveva dei passi un po' più veloci, adesso fa il passo lungo a tre mesi. Sì, è un cambio di passo, ha ragione. La questione è stata messa al centro del dibattito dell'Unione europea, dice la Meloni. Hanno parlato di Green, hanno parlato di crisi internazionale, hanno parlato di gas, di elettricità, di PNRR, hanno parlato di MES. Non mi è sembrato propriamente al centro del dibattito, è stato ai margini del dibattito dove si è concluso. Ne riparliamo a giugno. Beh, insomma. Antonio Italiani, ministro degli esteri, ha sottolineato che la stabilità nei Balcani significa anche riduzione della pressione migratoria. Bravo. Così va avanti la lotta agli scafisti in quanto agiscono sfruttando la disperazione di persone che fuggono da dittature, situazioni economiche devastanti. Vorrei ricordare, mi permetto, signor ministro degli esteri, che gli scafisti sono quelli che guidano il motoscafo, la barca. Lo scafista è l'ultimo anello dei criminali che portano i migranti in Italia. Spesso lo scafista è uno di quelli che ha pagato il biglietto, gli dicono guida, vai sempre dritto che arrivi in Italia. Pertanto la lotta agli scafisti, che è l'ultimo anello perché i trafficanti sono nel loro paese sommersi di denaro, di euro e di dollari. Caro Tajani, ministro degli esteri, dovrebbe essere più preciso. Si chiamano trafficanti. Gli scafisti sono quelli che guidano la barca. Non confondiamo quel tipo di organizzazione criminale con l'ultima pedina a cui l'organizzazione criminale non ne frega nulla di questi scafisti. Arrestano uno scafista e ce n'è un altro. Ecco, quindi non è la lotta agli scafisti, è la lotta alle organizzazioni criminali, signor ministro. Insomma, giusto per specificare, mi sembra doveroso. Pertanto non è la lotta agli scafisti, è la lotta alle organizzazioni criminali che sono ai loro paesi e da dove partono poi non è l'Italia. Bene, detto questo qualcuno dice ma perché non si ritorna ai decreti di Salvini perché lì funzionava. In realtà i decreti sicurezza di Salvini agivano sugli arrivi, non sulle partenze. Immaginatevi i decreti di Salvini adesso con 3000 arrivi al giorno. Cosa vuol dire? Mettersi a fare il braccio di ferro con le ONG, tu non entri. E poi tutti quei barchini che arrivano da soli, che cosa ci fai con i decreti ONG? Assolutamente nulla. Il 90-88% che arrivano con i barchini vuol dire che su 3000-2700 arrivano in maniera autonoma, 300 arrivano con le ONG. Quindi il braccio di ferro con le ONG ha solo portato a Salvini dei processi, come voi sapete. Quindi la soluzione non è quella dei decreti di Salvini, che nel 2019 avevano funzionato perché avevano fermato tutte le ONG, l'ONG è un pull factor eccetera eccetera. Ma il punto non è andare a fermare gli arrivi. Per non farli arrivare non li devi fare partire. Quindi il decreto Salvini è come potare l'albero. Invece tu devi andare a stirparlo l'albero perché se continui a potare l'albero non finisci più. Quindi la soluzione non è far tornare Salvini al Ministero dell'Interno a fare il braccio di ferro con le ONG. È andare a fermare le partenze, ma Salvini lo sa perfettamente, la Meloni lo sa perfettamente, il blocco navale, che vogliono rimandare a data da destinarsi se l'Europa vorrà gentilmente occuparsi del caso, che però non interessa. Hanno risposto, ne parliamo a fine giugno, ci riaggiorniamo fra tre mesi, quando magari ne sono arrivati già mezzo milione. In tre mesi sono 90 giorni, a 3.000 al giorno sono 240.000, più quelli che sono già arrivati 270.000. Ecco, ne riparliamo quando ne sono arrivati 270.000, che sarebbe già quello il record assoluto di tutti gli anni. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro un proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.